Per quello che ho visto io stanno facendo entrare solo i consiglieri del Partito Democratico, tra l'altro facendoli entrare in entrate secondarie. Che vi dobbiamo dire? Ci auguriamo che i cittadini italiani smettano di votare un partito come il Partito Democratico e diventato a Roma il referente del malaffare. In questo momento una seduta pubblica del Consiglio Comunale è interdetta? Nessuno ci dice le motivazioni e ci sono fuori cittadini. Grazie a cittadini della Monti Servizi che sono qui giustamente a esprimere il loro diritto di rischio. Questo è la macchina dei parlamentari della Repubblica ai quali non è permesso l'accesso. Marino ha paura del diritto.